Infiniti Car è lieta di presentarti il nostro nuovo servizio di demolizione. Smaltisci la tua auto con un clic. Devi demolire la tua auto e non sai come fare? Che sbattimento! Devo prendere un permesso? Chi mi viene a prendere? Posso farlo sabato? Cerca info su internet. Scegli il tuo demolitore. Porta l'auto dal demolitore, se ancora funziona. Chiamo un carroattrezzi e pagali entrambi. Torna a casa a piedi. Tutto questo con noi non lo farai più. Ecco cosa facciamo per te. Infiniti Car, grazie alla rete di demolitori certificati, recupera, trasporta, smaltisce e certifica la demolizione della tua auto. A costo zero e senza perdita di tempo. In tutta Italia. Grazie a tale collaborazione, ricicliamo i componenti della tua auto a norma di legge, ridandogli nuova vita. Vai su www.infinitycarsnc.com, compila il modulo e verrai ricontattato entro 24 ore. Infiniti Car, il futuro a portata di clic.